Ogni volta che vedo quella croce istata su là nel cielo, mi viene in mente che Gesù esprimeva soltanto luce in quello che diceva, vita, in quello che sentiva e trasmetteva. Perché hanno voluto mettere un cadavere su una croce per ricordare Gesù? Che era poteva essere simile a un sole, a una stella? Non certo. Ad un morto. E poi pensando, mi viene in mente una cosa, ma chi la croce è fisso? Chi l'ha ucciso Gesù? Gli uomini. E per cui gli uomini hanno sulla coscienza il peccato più grave, aver ucciso il figlio di Dio. E così sembra quasi che quella croce, più che un ricordare Gesù, ricordi il trionfo del male sul bene.